Questa non è la discarica di Roma, questa non è la discarica del sindaco Alemanno. Oggi siamo qui, siamo in tanti, ma la lotta continuerà finché non saremo certi che nessun uomo si metterà pieno in questa città. Ci vuole la partecipazione di tutti, ci vuole la partecipazione di tutti. Non esistono rifugiati politici, sono i soliti delinquenti, sono i soliti zingari che attestano le nostre città, sono persone che non hanno senso di lavorare, c'è intera di dalla prostituzione, i furti, non facciamoci prendere in giro, ma quale rifugiati politici, sono delinquenti, che non hanno senso di lavorare, non hanno senso di lavorare, non hanno senso di lavorare, vorremmo venire sempre tutta questa forza dell'ordine a difendere i cittadini, ma sembrano queste persone, non passeranno neanche queste persone con i caschi in testa a difenderci, che difenderanno dopo la gente. Prendi, prendi, prendi. Passa il tempo. Allora accendiamo adesso. Vieni a parlare. Vieni a parlare. Com'è? Che chiedi? Che chiedi? Che cosa? Questo è l'interesse della gente comune. Tutti i sindaci si riempiono la bocca con la parola sicurezza. Ma solo Forza 9 è qui in piazza per difendere la sicurezza dei cittadini. E' meglio. E' meglio. E' meglio. E' meglio. E' così. Siedi veramente. Vedi qualcosa? No. Lunga. Lunga. Vedi su YouTube e poi va direttamente su Facebook. Si.